Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 15 dicembre 2018. La nostra consueta rassegna stampa di Mattino 6, che vogliamo leggere le prime pagine dei quotidiani che troviamo questa mattina nelle ticole. Vogliamo subito iniziare con le prime quattro pagine del quotidiano Il Centro di Pescara, iniziando subito con Il Centro della Provincia di Pescara. Il Centro di Pescara, titolo di apertura sicurezza nei locali, controlli al via. Il questore di Pescara e gli operatori usate contapersone e metal detector. Nel taglio alto a Strasburgo è morto il giornalista Antonio Megalizzi, reporter ferito nell'attentato di Strasburgo. Elezioni regionali, i sindaci dei comuni montani vogliono votare a maggio invece che, come sappiamo, la data dei primi di febbraio. Cronaca, il caso grosso, la madre ai giudici, dichiarata la morte di Donatella. L'appello ai giudici del Tribunale di Chieti, la madre della ragazza scomparsa 22 anni fa nella sua casa di Francavilla. A Pescara, a Nuovo Porto, servono i soldi per il molo. Nel centropagina, la foto di copertina, la visita di Di Maio in Abruzzo. Vediamo qui gli imprenditori a Di Maio, meno tasse e burocrazia. È stata ieri pomeriggio a Pescara, nella sede della Camera di Commercio, che il vicepremier Di Maio ha incontrato gli imprenditori abruzzesi. Nel taglio basso, sempre a Pescara, sfollati, beffati altri sei mesi dentro un hotel. Poi parleremo anche all'interno del quotidiano Il Centro, dove vediamo gli sfollati del quartiere Rancitelli. Aggredito con l'estintore sul treno a Popoli, controllore ferito da un passeggero del Pescara-Roma, gli aveva solamente chiesto il biglietto. Ci vogliamo spostare adesso al quotidiano, sempre il centro, questa volta della zona di Chieti-Lanciano-Vasto. Titolo di apertura, pugnalato allo scalo. C'è un arresto. A Chieti, 31enne fermato per i fatti del 1 dicembre, il giudice per le indagini preliminari, tentato omicidio. Dice, nel taglio medio del foto di copertina, scuola Orsolain, l'ultimo Natale prima della chiusura. L'attesa per le feste si mescono lacrime alle suore e alla tristessa delle maestre. A Lanciano, cronaca, ladri con il SUV devastano la profumeria. A Tessa, ex Oneivel, colloqui per riassumere. E nel taglio basso, a vasto emodinamica, l'ASL approva il progetto. A Chieti, prode e maxi, frode fiscale, spariti 69 debiti. Al setaccio, 387 conti correnti sequestrati. Si allarga la rete degli imprenditori. Il centro, questa volta, della provincia dell'Aquila, anche delle zone di Avezzano e Sulmona. Due giovani aquilani trovati morti. Doppia tragedia nelle frazioni di Camarda, indaga il Pubblico Ministero e Monticchio. Sempre all'Aquila, ieri c'è stato un evento molto importante. C'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 del Gran Sasso Scienze Istituti. E era presente Rubbia e Baric, due premi Nobel che ieri sono stati presenti all'Aquila. In taglio di spalla, cronaca, l'Aquila e il comune nuovo contratto a 35 precari. Di politica, l'Aquila, Martino, tende la mano a biondi, ma lo bacchetta. Nel taglio basso, ad Avezzano, Assunzioni, Micron, Faricca, la Marsica. Caso Conti, i familiari, altre indagini. Assunzioni, Assunzioni, a posizione alla richiesta di archiviazione sulla morte del generale della Guardia Forestale. Vogliamo spostarci adesso al centro, questa volta della provincia di Teramo. Titolo di apertura, dona un rene alla figlia e la salva. A Civitella, la giovane poteva fare il trepianto solo da donatore vivente. Nel centro pagina, sempre della visita che ha effettuato il vicepremier Di Maio. Ieri, oltre a Pescara, Di Maio è stato a Pineto. In tanti restano fuori sotto la pioggia. Vediamo anche nella foto il vicepremier Di Maio che ha incontrato, oltre che gli impenditori di Pescara, anche quelli di Pineto, dove ha iniziato il suo tour a sostegno della candidata alla regione Sara Marcozzi. Nel articolo di Spalla, cronaca, a Teramo, abusi sessuali su una ragazzina condannato. La vittima, all'epoca dei fatti, aveva meno di 14 anni. A Giulianova, invece, Cappelli chiude il suo negozio dopo 47 anni di attività. Nel taglio basso, calcio serie C, a Pesaro prova importante per il Teramo. E vediamo adesso, sempre nel taglio basso, in merito alla ricostruzione, a Teramo sistema da cambiare il consiglio di Teramo sul sisma, votata all'unanimità la mozione di protesta. Vogliamo spostarci alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo. Titolo di apertura discoteche tolleranza zero. Il questore ai gestori nei locali di ballo, dice, controlli stringenti durante e dopo le feste i vigili del fuoco. In sala nemmeno una persona in più rispetto alla capienza prevista. Nel taglio alto, calcio, Pescara per il mercato riparte l'asse con la Juventus. Nel centro pagina vediamo la visita che ha effettuato il vicepremier Di Maio, che ieri ha incontrato gli imprenditori sia di Pescara che della provincia di Teramo. Inoltre nel taglio basso, vediamo il merito al generale Conti, i familiari non archiviate. Troppe anomalie nella morte del generale Guido Conti, i parenti puntano il dito su telefonate e SMS. A Lanciano, spaccata nel centro commerciale, auto a riede e la gang sfonda la vetrata. Infatti i ladri sfondano la vetrata con un'auta riede e saccheggiano un negozio nel centro commerciale di Lanciano. Prima pagina del quotidiano La città della provincia di Teramo. Titolo di apertura in merito alla ricostruzione è scaricato i candidati governatori. Prima di decidere se rimuovere il direttore, Lolli chiederà a Legnini, Marsiglio e Marcozzi. Inoltre nella foto di copertina del centro pagina la protesta degli sfollati verso i politici. Vediamo qui la foto di uno sfollato con un cartello di protesta contro la politica. Prove schiaccianti contro il CIRSU. Puzzer percolato, ecco le motivazioni della condanna. Nel taglio basso della provincia della città a Martinsicuro proteste contro i tagli degli alberi mortali lungo la strada statale 259. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vogliamo iniziare subito con il Corriere della Sera. titolo di apertura, reddito, la Lega sfida il Movimento 5 Stelle. Conte vede la Merkel, nessun cappello in mano, trattativa ancora in bilico. Poi vediamo come nella foto del centro pagina Antonio Megolizzi, il giornalista italiano che è stato ucciso a 29 anni da un terrorista islamico a Strasburgo. La morte di Antonio, dice qui l'articolo, è un simbolo dei giovani che amano l'Europa. Blitz nelle scuole, controlli su 224 istituti, la ministra Grillo, un orrore, la scuola, cibi, scaduti e topi. Irregolare, dice l'articolo, una mensa su tre. Nel box in basso a destra, una notizia dal Brasile, c'era il decreto di estradizione di Battisti che invece è fuggito e si è reso irreperibile. Vogliamo spostarci al quotidiano Repubblica, titolo di apertura. Pensioni quota 100 solo per 350 mila, agli altri la fornero. Reddito di cittadinanza, la Lega attacca il Movimento 5 Stelle, dice non ci piace, al Sud aumenterà il lavoro in nero. nella foto anche qui di copertina, di centropagina, vediamo il giornalista italiano che a 29 anni è stato ucciso nell'attentato a Strasburgo. Antonio è considerato adesso il ragazzo simbolo che credeva nell'Europa dei fratelli. Vogliamo adesso anche qui spostarci nel quotidiano La Stampa, quotidiano nazionale. Titolo di apertura, il quasi accordo con l'Europa, scatena la rissa tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Banc'Italia rivede a ribasso le stime sul prodotto interno lordo. Salvini, teme di dover posticipare, quota 100, Giorgetti, il reddito di cittadinanza, dice non ci piace. Poi nell'articolo di spalla vediamo due foto di quello che sta accadendo a livello generale a Roma e in Italia emergenze. Roma rischia di essere sommersa dai rifiuti e nessuno aiuta il sindaco Virginia Raggi. E inoltre il problema delle menze scolastiche che il ministro dice che una su tre è un film dell'orrore. Nel taglio basso, dopo la rabbia e il dolore, Antonio non ce l'ha fatta e ragazzo ferito nell'attentato di Strasburgo. Vogliamo adesso vedere la prima pagina, leggere del fatto quotidiano in merito agli scandali. Uno rischia il processo, l'altro nel miniro. Consip e condotte al pettine gli affari dei fedelissimi di Renzi e Boschi. A riguardo, il pubblico ministero chiede un rinvio a giudizio per l'otti del 7 e saltamacchia Vannonio russo. Invece condotte, fallisce, non paga gli stipendi ma dava consulenze agli amici. Dice qui l'articolo di Matteo al fratello di Maria Elena Boschi. Diamo anche qui il fatto quotidiano, terrorismo, Trasburgo, morte, megalizia. Antonio non ce l'ha fatta, ci ha insegnato invece l'amore per la vita. vogliamo spostarci nel taglio basso, estradizione di per Battisti sparito dal Brasile si è reso irreperibile. Business digitali, fondi del governo, le aziende puntano su Davide Casaleggio, convegni e finanziamenti nella speranza di avere un'influenza sul Movimento 5 Stelle. Vogliamo passare adesso il messaggero quotidiano questa volta nazionale, titolo di apertura, lite sui tagli chiesti dall'Unione Europea, gelo della Lega sul reddito con Bruxelles intesa vicina ma si tratta sul debito strutturale e quota 100 Giorgetti, il sussidio piace all'Italia che non ci piace Banca Italia invece taglia il prodotto interno lordo. e nell'articolo di spalla di destra anche qui la morte di Megalizzi non ce l'ha fatta il reporter che amava l'Europa. Vogliamo spostarci nel taglio basso del quotidiano Il Messaggero nella foto di copertina il presidente uscente Temer firma il decreto plauso di Mattarella ma in merito a Battisti c'è l'estradizione ma lui è fuggito nel box di destra del taglio basso allarme rifiuti il sindaco Raggi vuole il commissario il governo dice no dopo il rogo alla TMB il deposito dei rifiuti dell'AMA è corsa contro il tempo nella camitale per evitare il caos durante le feste qui nel box in basso sempre in merito alle menze scolastiche il ministro Grillo dice una su tre è fuori legge vogliamo adesso vedere la prima pagina del quotidiano Il Tempo quotidiano nazionale articolo di apertura la buona scuola fa schifo i NAS scoprono escrementi di topo insetti nei panini e altre amenità nelle menze degli istituti il caso più clamoroso a Roma al Tintoretto il Tintoretto vogliamo ricordare è una quartiere della zona dell'Eur la parte sud di Roma la ministra Grillo si indigna cucine da un incubo nel taglio alto scontro questore Raggi sui vandali tedeschi Marino contro la sindaca niente violenze e saccheggi Guido Marino è il questore di Roma in merito al caos provocato dai tifosi della squadra tedesca in trasferta nella capitale nel articoli di spalla filmato finalmente l'ordine di estradizione per Battisti ma lui si è dato latitante irreperibile vogliamo adesso spostarci sul quotidiano libero allarme dei carabinieri abbiamo visto in asse menze scolastiche come fogne un refettorio su tre irregolare dopo le ispezioni dei nas la ministra Grillo dice trovati cibi scaduti carenze igieniche e perfino topi e parassiti un film dell'orrore poi ci vogliamo spostare nel taglio basso vediamo qui la foto del centro pagina dove vediamo Conte al tappetino della Merkel e dice altro che cambiamento come al solito il nostro premio si sdraia davanti alla cancelliera sperando di ottenere qualche favore il manifesto a Bruxelles si tratta a Roma si litiga Tria e Conte mediano tra i fuochi dell'Unione Europea la Merkel via quota 100 contro Lega Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza vediamo adesso qui sul manifesto in merito alle menze delle scolastiche la tavola bandita rapporto shock dei NAS sulle menze scolastiche italiane una su tre regolari con gravi carenze igieniche trovati escrementi di topi insetti cibi avariati scaduti che poi finivano nei piatti degli alunni la ministra grilla un film dell'orrore decine le persone denunciate una ventina le menze chiuse dice qui l'articolo vogliamo adesso vedere anche alcuni articoli di spalla di destra l'emendamento killer blitz di Di Maio contro i giornali e inoltre il congresso FIOM e la CAMUSO rilancia la candidatura unitaria di Landini vogliamo adesso leggere il quotidiano La Verità in merito all'articolo di apertura tutti verso il processo tranne uno al pettine i nodi del caso Consip chiesto il giudizio per l'ex ministro Lotti i vertici dei carabinieri il presidente di Publiacqua avrebbero dice qui inquinato le indagini sul più grande appalto d'Europa un affare per il quale era stato accusato anche il papà di Renzi adesso vicino all'archiviazione inoltre vediamo nel centro pagina il vincitore di X Factor dice sovranista sotto shock nel taglio basso il governo prepara tagli alle pensioni sociali l'ipotesi è di calcolarle tenendo conto anche della dichiarazione ISE chi ha una casa dice qui l'articolo rischia ancora nel box in basso in merito alla morte dell'italiano ferito dal terrorista islamico a Strasburgo del giornalista Antonio Megalizzi vogliamo spostarci al quotidiano avvenire conferenza ai tempi supplementari i grandi fanno muro non si attendono misure concrete solo brutto clima dalla coppia 24 di katovic nessun accordo contro il riscaldamento del pianeta dice ma 40 paesi premano per passi più coraggiosi limitare l'aumento a 1,5 gradi anche l'avvenire mette nella foto di copertina il giornalista che è deceduto a Strasburgo in merito all'attentato terroristico che è avvenuto in questi giorni nel taglio basso si parla di Conte si tratta ancora con l'Unione Europea Lega e Movimento 5 Stelle elite sul reddito di cittadinanza e nel box in basso notizia dal Brasile Battisti fuggito prima dell'arresto per l'estradizione vogliamo spostarci al quotidiano il mattino reddito Giorgetti attacca quell'Italia non ci piace il sottosegretario alla presidenza del Consiglio leghista crea lavoro nero in caso di crisi si torna al voto taglio al deficit e alta tensione di Maglio Salvini ma con l'Unione Europea intesa sempre più vicina vogliamo spostarci nella parte centrale nel taglio centrale interviste del mattino normale lo stop a Napoli devastante per tutti gli atenei il rettore di Pisa la politica ha compiuto un attentato all'autonomia delle università anche qui Antonio Megalizzi il sogno spezzato di Antonio figlio della generazione Europa e anche nell'articolo di spalla di sinistra prestiti alle imprese lo spread del sud tra la Calabria e il Trentino tassi più cari anche del triplo e torna a crescere le assicurazioni delle auto vogliamo spostarci al sole 24 ore quotidiano nazionale economico sole 24 ore titolo di apertura maxi aumento da 460 euro mensili netti per i presidi l'intesa per le scuole per l'adeguamento contrattuale riguarda oltre dice 7 mila dirigenti scolastici previsto per tutti i dirigenti il diritto alla delega durante ferie e malattia inoltre negli articoli di spalla di destra in merito al ponte Morandi aperti i cantieri per la demolizione del ponti dice è stato aperto ieri sera a Genova dal sindaco commissario Bucci il cantiere per la demolizione dei tronconi del ponte Morandi inoltre nel taglio basso vediamo un articolo inerente a Tim Vivendi Candida Bernabè e Galateri il gruppo francese parte del consiglio di amministrazione da revocare dice ma non vogliamo il controllo abbiamo terminato le prime pagine dei quotidiani nazionali vogliamo spostarci adesso alle prime pagine dei quotidiani sportivi iniziamo subito con la gazzetta dello sport titolo di apertura vediamo in merito anche alla partita alle due squadre di Milano Mila Inter due panchine ad alta tensione per le bocciature europee panettone bollente gattuso rischia tutto e spalletti invece contro tutti nel taglio alto invece in merito alla derby della mole di questa sera che si giocherà allo stadio olimpico di Torino il derby il Torino Juventus ci prova il Toro prima sfida la Juve dell'era CR7 Cairo che il presidente del Torino calcio la squadra rimanga compatta dice e usi la testa cancello operato fuori per sei settimane Perin gioca in porta andiamo sempre nel taglio centrale riprendendo l'argomento gattuso Milan il futuro del tecnico appeso al quarto posto torna il nome di Conte e Higuain flop potrebbe non essere riscattato e spalletti contro tutti l'allenatore vogliono demolirci su Marotta dice avvolto il supporto può dare un po' fastidio inoltre il far play finanziario multa UEFA 12 milioni e conti apposto nel 2021 dice oppure addio alle coppe e inoltre alle ore 18 a San Siro l'Udinese per ripartire e un anno fa fu un incubo Gio Mario si ninja no vediamo nel taglio basso altri la classifica e anche le varie partite che si giocano tra oggi e domani e lunedì e martedì Corriere dello sport articolo morto il più giovane reporter tifoso bianconero questa sera Torino Juventus assume un significato particolare dice un derby per Antonio che è stato colpito a Strasburgo da un attentato aveva 18 anni allegri i giocatori sono rimasti turbati nel taglio alto un articolo anche qui il più povero del diavolo Milan dopo l'addio all'Europa la stangatina UEFA multa di 12 milioni rosa ridotta bilancio bloccato così Iguain diventa un costo incostenibile insostenibile inoltre vogliamo spostarci nel taglio basso in merito all'allenatore dell'Inter spalletti piede di porco contro l'Inter il tecnico attacca dice qui l'articolo i critici e punge marotta ha detto cose blasfeme alle ore 18 la sfida questa sera con Ludinese e vogliamo spostarci al quotidiano di Torino sportivo tutto sport anche qui foto di apertura e titolo di apertura in merito al super derby che si terrà questa sera alle 8.30 tra Torino e Juventus allo stadio grande Torino alle ore 20.30 ci sarà questo bellissimo derby tutto esaurito per la sfida di Granada con i bianconeri dice qui l'articolo Mazzari orgoglio e passione dice non partiamo battuti daremo tutto invece l'allenatore della Juventus Allegri dobbiamo cancellare Bern non basta la tecnica serve l'anima occhio a Ronaldo nei derby di Manchester e Madrid ha segnato 26 gol e poi nel taglio basso vediamo anche le foto dei box di destra dell'allenatore dell'Inter Spalletti all'Inter sono tutti sotto esame stessa cosa anche nel Milan dove oltre alla perdita che ha avuto nella Coppa Europea l'UEFA ha multato e la rossa è bloccata a 21 e inoltre ci vogliamo fermare qui con quest'ultimi articoli delle pagine sportive vogliamo adesso fare un attimo di pausa con un black black pubblicitario vogliamo prima però ascoltare le previsioni medio per quest'oggi e poi riprendiamo nella seconda parte con la lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali ben ritrovati a questa seconda parte di Mattino 6 adesso vogliamo passare subito alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali iniziamo subito con il centro di Pescara che all'interno troviamo titoli delle elezioni regionali c'è un appello dei sindaci di montagna in particolare è quello di Gamberale il sindaco Bucci che è promotore di un'iniziativa di spostare le elezioni dal 10 febbraio al 26 maggio proprio riguardo a poter dare la possibilità a tutti i cittadini a partecipare al voto visto che sono zone di montagna e potrebbe essere proibito in quanto proibitivo in quanto nei loro territori d'inverno c'è molta neve e anche Di Stefano candidato presidente dice voterei subito ma non posso dare torto ai sindaci dice qui Di Stefano inoltre nell'appello del governatore vicario della regione Abruzzo Lolli in merito al sindaco Raggi dice il caso rifiuti di Roma voglio una richiesta formale vogliamo spostarci adesso sempre scusate alla visita del vice premier Di Maio che ha svolto qui in Abruzzo Di Maio le imprese dice ora meno tasse non ci prendiamo in giro bisogna dare alla regione un nuovo governo il prima possibile e inoltre sempre qui su Di Maio dice aiuteremo chi crea lavoro sul territorio questa è stata la promessa del vice premier che incontra oggi anche gli operati on well prima del comizio che effettuereà a Lanciano ma a riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato preparato dalla nostra redazione del Tg6 in merito alla visita di Di Maio qui in Abruzzo prego pomeriggio pescarese per il vice premier ministro del lavoro Luigi Di Maio quest'oggi in camera di commercio a Pescara per incontrare gli imprenditori della nostra regione e ascoltare le loro istanze le loro proposte in un momento congiunturale sicuramente delicato al fianco del vice premier la candidata presidente del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi Di Maio ha parlato di lavoro ma anche di questioni politiche nazionali ed internazionali andiamolo ad ascoltare noi ce la metteremo tutta poi sono i cittadini a scegliere io credo in Sara Marcozzi nella sua lista nel Movimento 5 Stelle che qui in Abruzzo è sempre stato presente sul territorio qui ci sono consiglieri regionali che si sono tagliati gli stipendi hanno erogato crediti alle imprese hanno fatto grandi iniziative come l'acquisto delle ambulanze per le asle territoriali come addirittura l'acquisto di uno spazzaneve io poi ho partecipato a questi eventi perché rappresentavano sicuramente una goccia nel mare ma la testimonianza che i soldi c'erano ora sono al governo e al governo quest'anno abbiamo trovato 4 miliardi di euro di tasse in più da dare a banche e assicurazioni per finanziare l'innalzamento delle pensioni minime gli abruzzesi come tutti gli altri cittadini e le altre regioni avranno una pensione minima aumentata a 780 euro per i pensionati in difficoltà sentiamo un po' di polemiche sull'election day cioè a febbraio c'è chi volesse tutto a un tratto sta classe politica che ha speso soldi dalla mattina alla sera adesso parla di risparmi di costi dai non ci prendiamo in giro qui è come il referendum di Renzi quando provò a spostare e lo spostò in avanti di un mese e mezzo perché era in difficoltà poi ha perso comunque quindi a questi signori consiglio di evitare tutta sta polemica sull'election day se vogliono allungare i tempi perché vogliono perdere un po' di meno facciano pure ci sono imprese che in Abruzzo stanno andando via pensiamo alla Boll e alla Honeywell c'era stato anche un suo impegno con l'ambasciata americana a che punto è la situazione e l'avvertenza guardi ci stiamo lavorando ogni giorno perché io non posso permettere che soprattutto aziende multinazionali che stanno bene che sono venute su questo territorio che hanno utilizzato la nostra mano d'opera i nostri concittadini da oggi al domani vadano via stiamo portando avanti tutte le iniziative che servono per aiutare quei lavoratori e per evitare queste delocalizzazioni l'abbandono del territorio la chiusura degli stabilimenti ed è chiaro ed evidente che questo governo si farà rispettare ci faremo rispettare perché queste aziende devono restare sul territorio vogliamo proseguire con altre notizie all'Aquila c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Scienze Istituti dove hanno partecipato due premi Nobel alla cerimonia di inaugurazione insieme con l'astrofisica branchesi il rettore Coccia dice siamo l'università più giovane d'Italia guardiamo dice qui l'articolo al talento ci spostiamo adesso alla cronaca della provincia di Pescara il questore metal detector e contapersone nei locali Misiti incontra 50 imprenditori non mettete dice la vita a rischio di nessuno vertice questo è successo dopo la tragedia di Ancona vogliamo anche andare avanti un padre tragedia sfiorata a Pescara un padre una festa da incubo mia figlia ha rischiato dice qui la vita proprio in merito a quello che dopo che ha preso la notizia di Corinaldo una 14enne tutti prestati dice ho avuto paura la testimonianza di quello che è successo vogliamo andare avanti spostiamoci anche su altri articoli di cronaca la denuncia di Sospiri e Antonelli progetto da sottoporre a via nazionale il porto di Pescara mancano dice 3 milioni e 300 mila euro slitto in i lavori per il nuovo molo dopo l'apertura della dica foranea arriva lo stop del comitato regionale su impatto ambientale dice non ci sono i soldi per pagare d'iva del vecchio troveremo i fondi pesca selvaggia sequestrati 600 chili di vongole con 331 controlli e 21 multe per 46 mila euro 17 sequesti l'articolo dice per un complessivo di 600 chili di prodotto ittico andiamo adesso andare avanti la ragazza scomparsa 22 anni fa si parla di Donatella Grosso che dichiarata morta ora lo Stato non mi pugnali nel senso la ragazza scomparsa l'appello della madre Tina Grosso al tribunale di Chiedi lunedì c'è la decisione in merito se chiudere l'inchiesta ferisce a colpi di scopa la vicina di casa l'ite a pescare in Vialdo Moro per l'abbagliare del cane la pensionata è stata colpita alla testa inoltre pensione dopo 40 anni il pirmario di pediatria vogliamo vedere qui Giuliano Lombardi primario di pediatria dell'ospedale di Pescara e i bambini cioè i miei compagni di viaggio lascia un gruppo di lavoro d'eccellenza che vengono a curarsi anche dalla fuori regione vogliamo fare i complimenti al primario Lombardi per tutto il lavoro che ha svolto nell'arco di questi 40 anni a favore dei bambini e sfollati di Rancitelli in hotel altri 6 mesi dimenticati da tutti lettera denuncia degli ex residenti di Via Lago di Borgiano dice ci attende un altro Natale lontano dalle nostre case inoltre qui nel foto a destra la vediamo il presidente onorario dell'associazione Agbe di Pescara con l'orella cuccarini che incontra i bambini delle case famiglie e domani a reparto volo questo incontro della polizia inoltre vediamo un murales di Pantonio vicino al ponte Flaviano e sulla riviera c'è Pasolini dopo Milo a Fontanelle ecco l'opera dello street artist delle Azzorre nel 2019 alla nave di Cascella la celebre frase del poeta su Pescara cronaca di Montesilvano a Porto Allegro esperti a confronto sul futuro di Corso Umberto un rating del progetto di Sara Tarricone un senso unico un progetto per riqualificare tutto il Corso Umberto pista ciclabile piante panchine ed esposizioni temporanee inoltre andiamo avanti con altri articoli distretto sanitario slitta l'inaugurazione Pettinari consigliere regionale del Movimento 5 Stelle contro l'Asl a Montesilvano ma l'assessore Cozzi tranquillizza in 5 Stelle dopo 23 anni di attesa non apriamo con gli uffici vuoti vogliamo andare avanti sempre con il problema scuole Franca Villa riscaldamento nelle scuole proteste anche a San Franco nella primaria i genitori dei bambini lamentano la mancanza di acqua calda la dirigente della scuola dice problemi di alcuni rubinetti sollecitati controlli all'impianto poi nel taglio basso un articolo in merito al comune di San Giovanni Teatino la FB Servizi salva 32 posti di lavoro soddisfatto l'assessore Roberto Ferraioli che via libera al concordato preventivo qui vediamo anche infatti la foto dell'assessore Ferraioli a quale ha partecipato a queste iniziative molto importanti nel salvare i 32 posti di lavoro postiamo sempre nella zona questa volta di Penne Taltavo Popoli Val Pescara Popoli in particolare semina il terrore sul treno Pescara Roma passeggero aggredisce un capotreno e lo ferisce alla testa con l'estintore poi fugge a Popoli panico dice qui l'articolo tra i viaggiatori a Chieti provincia Chieti ha coltellato allo scalo scatta un arresto notte di sangue movita e violenza dopo l'aggressione del primo dicembre scorso il 31enne Tiatino finisce domiciliari per il giudice per le indagini preliminari è tentato omicidio infatti qui dice tra giovedì e venerdì controlli a tappeto dei carabinieri nei locali dello Svago pubblica una foto della ex nuda condannato immagini su facebook due anni e mezzo ad un falegname accusato di stalking estorsione e diffamazione a Chieti sotto accusa 69 debiti spariti caccia agli affari dei consulenti polizia e finanza passano al setaccio 387 conti correnti sequestrati agli arrestati il sospetto della procura giro impressionante si allarga la rete degli imprenditori vogliamo adesso vedere e spostarci a Teramo in merito alla ricostruzione tutti d'accordo questo sistema è sbagliato approvato all'unanimità la mozione inviata a Mattarella e Conte sui disagi che vive la città in aula tanti sfollati ma politici assenti il sindaco la ripartizione delle risorse ci ha penalizzato dice qui l'articolo ma anche qui a riguardo vogliamo ascoltare e vedere il servizio che è stato svolto dalla nostra redazione del TG6 abbiamo recuperato quasi tutti i calciatori e quindi andiamo a affrontare anche perché due erano squalificati come Caidi e Piacentini quindi hanno scontato il turno di squalifica e sono a disposizione speranza no speranza ancora no non viene con noi ancora ancora non ha recuperato più passa il tempo più ci avviciniamo alla partita e più siamo consapevoli che andiamo a giocare contro una squadra molto aggressiva e che abbiamo esigenza di fare punti e quindi anche noi dovremmo esserlo per portare via punti da questo campo non si può stabilire un perché e il dato di fatto è così quindi il dato di fatto è che è talmente evidente gli attaccanti almeno sotto la mia gestione e quindi nelle dieci partite ok nelle dieci partite ha fatto due gol di Grazia due gol Caidi quindi sono quelli che hanno fatto più gol credo e non ci sono presenze di attaccanti credo ha fatto i due barbuti che non aveva mai segnato però però insomma ma questo non vuol dire che poi è responsabilità solo degli attaccanti Piccio è un ragazzo straordinario è un ragazzo straordinario che come tutti i ragazzi di questa generazione che si approcciano magari hanno giocato una piazza più tranquilla magari ha sofferto inizialmente qualche critica però è un ragazzo che ci sta con la fede e questo ve lo assicuro io sceglierei quelli che ho fino adesso quelli che ho adesso perché abbiamo tre partite quattro partite quindi tre per finire il giro di andata e uno al giro di ritorno prima del mercato e parlare di calciatori secondo me voi fate bene il vostro lavoro è giusto ma per me sarebbe rispettoso nei confronti dei calciatori che alleno e quindi io vado avanti per quelle che sono le mie idee vado avanti con questi calciatori fino a quando non si apre fino a quando non si apre il mercato dopodiché si valuta ma io non penso a niente adesso anche se poi devo dire è normale che con qualche calciatore che ho allenato ho ottimi rapporti ma questo però stimo i miei calciatori quelli che alleno li stimo tantissimo e credo che se riusciamo a fare quel salto di qualità dal punto di vista emotivo diventiamo una squadra fastidiosa per tutti come lo siamo già adesso vogliamo andare avanti è stato anticipato l'articolo della partita di oggi del Teramo col Pesaro vogliamo andare avanti con altri articoli importanti a Civitella del Tronto Ilenia 29 anni poteva fare il trapianto solo da donatore vivente la mamma Rita di 52 non ha esitato un secondo infatti qui l'articolo dice dramma a lieto fine madre dona Urene alla figlia la salva inoltre nel taglio basso dell'articolo pergolato nel Tordino il giudice Cirzu e CSA non vigilavano e vediamo in verito all'inquinamento che è successo nella zona della provincia di Teramo ad Atri nuova commissione sulle pari opportunità alla Asle sempre di Atri acquisto un nuovo depuratore Atri il primario la macchina di ultima generazione è basilare per i trattamenti presso i letti passeranno da 8 a 12 scoperta anche una targa a Tancredi Maurizio Tancredi storico medico del reparto vogliamo adesso spostarci nel provincia e la comune dell'Aquila doppia tragedia vani soccorsi trovato morto nell'auto il pubblico ministero indaga Camarda un passante la nota e chiama la polizia disposta all'autopsia del 47enne per accettare le cause del decesso vogliamo anche qui andare avanti altri due articoli di cronaca scoperta senza vita nella camera d'elettro madre rinviene la figlia di 39enne nella sua abitazione di Monticchio inoltre altro articolo al caso Conti la famiglia no all'archiviazione sul Mona i parenti del generale dei carabinieri chiedono chiarezza sulla posce bianca e su una misteriosa lite in merito alle elezioni regionali Martino Forza Italia chiede la pace a Biondi ma pone le condizioni l'Aquila e il deputato non l'ho offeso dice però un segretario di partito non deve mischiare politica e amministrazione vogliamo andare avanti la serie B la vogliamo adesso spostarci sul quotidiano regionale Il Messaggero Di Maio merita la visita che ha avuto in Abruzzo a imprese e associazioni arriva il rilancio reggito di cittadinanza fatturazione elettronica e norme snelle inoltre anche qui Legnini candidato presidente del centro-sinistra lavora una rossa di liste civiche e invece il centro-destra per Marsiglio è quasi fatta vogliamo ricordare Marsiglio candidato presidente invece del centro-destra discoteche ora si schisgarra chiude vediamo qui nella conferenza il questore Francesco Mistici durante l'incontro con i gestori delle discoteche locali controllo della polizia su una movita sotto una festa da ballo infatti dice l'ultimatum del questore ai gestori dei locali norme chiare su droga vendita di alcol e quiete pubblica vogliamo cambiare argomento tagli contestati è la guerra degli alberi Italia nostra contro il comune dopo gli abbattimenti in serie su Via Pepe stop immediato in assenza di un'analisi tecnica inoltre vogliamo scusate un articolo di interessante sempre in merito a pescare di Torre la regina inglese degli chef in pochi anni Federica Nicche ha conquistato i palati londinesi fino ad aggiudicarsi il premio per il miglior menù italiano vogliamo fare i complimenti a Federica Nicche all'Aquila biondi in campo per i cucire con forze taglie il sindaco scongiurato il pericolo dell'ana tra zoppa si dedica al tentativo di rafforzare la maggioranza sempre in merito alla politica vogliamo spostarci all'evento che è molto interessante e importante che è nato ieri a L'Aquila via il nuovo anno accademico della ricerca le attività didattiche tenute a battesimo da Carlo Rubbi e dal premio Nobel per le onde gravitazionali Barry Barish e il rettore Coccia dice investire in questa realtà è una sfida ma vale la pena perché abbiamo un grande futuro nella scienza morte di conti non archiviare dicono i familiari al generale trovato senza vita a Chieti ospedale appalto da 300 milioni a scontro sul project finanzi scade l'ultimato del gruppo Maltauro la ASLE affinché proceda ad affidare la gara vogliamo andare avanti a Teramo ricostruzione i parlamentari snobbano il consiglio aperto solo la pezzo pane tra tutti gli abruzzesi in aula assieme al governatore Lolli e al sindaco d'Alberto in merito ai ritardi nell'affrontare le pratiche e c'è anche stata la protesta degli sfollati delle case popolari dell'Ater vogliamo adesso spostarci al quotidiano la città della provincia di Teramo rifiuti da Roma solo se lo chiede la raggi il presidente Giovanni Lolli chiarisce che ci sarà spazio solo per trattamento non per lo smaltimento vogliamo andare avanti spostarci anche Teramo prende il biglietto unico dopo i vantaggi acquisiti dal trasporto pubblico dell'area pescare chiedi il consiglio chiede il pari trattamento vediamo infatti il gazebo dove è stato poter effettuato anche questo vogliamo adesso andare avanti sempre con articoli di cronaca fuggi in Indonesia prima della condanna 5 anni e 8 mesi di carcere a Teramo per violenza sessuale nei confronti della figlia della ex compagna e per circa un anno abusato della figlia della compagna una ragazzina di appena 15 anni molestandola fisicamente anche tramite whatsapp articolo di cronaca cappotti in auto e in una canna di porta romana ennesimo incidente allo svincolo dell'otto zero nessuna conseguenza per fortuna del guidatore cani e controlli antidroga nelle scuole superiori grande spiegamento di uomini della polizia per il contrasto allo spaccio nei pressi delle scuole è cominciata dice qui l'articolo a un istituto superiore la serie di servizi di prevenzione mirati a frenare lo spaccio degli stupefacenti vogliamo ancora andare avanti discarica di grasciano prove schiaccianti su puzza e pergolato depositate le motivazioni della condanna nei confronti degli ex vertici cirsu e di alcune società collegate per il giudice a grasciano sono stati accolti rifiuti vietati che non avevano ricevuto trattamenti la banca del credito cooperativo entra ufficialmente nel icrea il presidente resteremo autonomi e con un ruolo attivo nel territorio dice a martin sicuro articolo di cronica che era anche nella prima pagina rivolta contro l'abbattimento dei tigli secolari cittadini e associazioni protestano per l'intervento sulla strada provinciale 259 il sindaco scrive all'ANAS per avere informazioni in merito all'abbattimento delle piante vogliamo andare avanti pesce locale nelle menze scolastiche presentato ieri all'ente il porto il progetto del consorzio sindaci assenti seppur invitati coinvolti non si sono presentati alla conferenza complimenti di soldà alla polizia vogliamo ricordare soldà commissario prefettizio del comune di Giulianova che ha dato un premio alla polizia stradale di Teramo vediamo qui nella foto il vice questo raggiunto Pietro Primi comandante del distaccamento della postrada di Giulianova anche l'ispettore Giusti vogliamo spostarci alla visita di Di Maio come abbiamo già parlato dove lancia la corsa della Marcozzi come candidata presidente alle prossime elezioni regionali qui in Abruzzo altri articoli comune già intervenuto in via Colombo a Pineto Pallini risponde alle critiche il vice sindaco Cleto Pallini dice il tratto sarà sistemato a spese della ditta vogliamo parlare del calcio anche in merito al servizio della nostra redazione del TG6 stasera alle ore 20 e 30 la sfida del Benelli a Pesaro Out e Speranza e Vendola coppia d'attacco Zetca e Piccioni ti vediamo questa sera una partita molto importante per il Teramo calcio vogliamo anche parlare di sport del Pescara profumo di gol a Verona Mancuso sfida di Carmine fari puntati sui due bomber l'attaccante del Fino finora ha realizzato otto redi il Cintravanti giallo-blu è a quota due ma ha saltato sei gare a causa di un infortunio e il Pescara gioca lunedì con il Verona al Bentecodi vediamo anche fatti vediamo anche qui Gravillon il terzino si fa male alla caviglia Pilone sorite però Gravillon è stato recuperato per la partita anche qui il Teramo a Pesaro con Caidi e Piacentini per tornare a gioire vediamo la partita che si giocherà questa sera e il Teramo cercherà di mettercela tutta per portare a caso un risultato positivo vogliamo anche qui parlare di basket il Mosciano sfida tra seconde della classe il capitano dei Biancorossi Pierluigi V presenta la gara di oggi dice sarà difficile ma noi siamo pronti con quest'ultimo articolo di Sport vogliamo concludere la nostra resegna stampa ringraziandovi per la vostra attenzione che ci avete mostrato e mattino 6 riprenderà lunedì mattina alle ore 8 noi vi auguriamo di poterci seguire con la programmazione di TV6 e vi vogliamo anche ricordare che i nostri telegiornali ci saranno oggi alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata a tutti quanti voi a tutti quanti voi